Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Iotto di 34 metri manda il traffico in tilt dalla Pergolese a Fano Allerta meteo della protezione civile temporali, vento e fulmini in arrivo sulle marche Cibi surgelati e fuori stagione sulle tavole degli asili fanesi La denuncia del comitato Mensa Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con il passaggio di un mega yacht che questa mattina ha mandato il traffico in tilt L'imbarcazione che costa circa 9 milioni di euro è stata varata al porto di Fano Guardate È lungo 34 metri e 40 largo più di 7 e ha due motori van da 2000 cavalli È il Dreamline prodotto in provincia di Ancona dall'azienda DL Yacht che ha realizzato l'imbarcazione su misura per un armatore russo Il progetto costruito da un architetto italiano ha puntato principalmente sull'insonorizzazione quindi ad un livello di minor vibrazione e rumorosità ma anche sul comfort per il proprietario e per gli ospiti della barca per un costo complessivo di 9 milioni di euro È il primo yacht 34 metri che stiamo varando di questa dimensione siamo molto soddisfatti, ci siamo molto attesa per questa barca abbiamo fatto barche più piccole ma questa in questo momento è la nostra più grossa soddisfazione Come è strutturata all'interno? Due ponti e mezzo con la pilot house, la guida su un ponte rialzato abbiamo 5 cabine di cui una master cabina, cabina armatoriale nel ponte principale è un yacht classico di costruzione italiana la più bella barca che sia mai stata prodotta Partita alle 4 del mattino da Castelvecchio dove si trovano i cantieri Dreamline è arrivata al porto di Fano intorno agli 11.15 un trasporto difficoltoso viste le dimensioni dello yacht e che ha creato code e disagi a tanti lavoratori automobilisti e pendolari Abbiamo avuto delle piccole difficoltà relative alle infrastrutture che ci hanno creato qualche piccolo problema però fortunatamente senza fare danni siamo arrivati fino a qua all'ingresso del porto di Fano Quello della cantieristica è un settore in ripresa? Allora fortunatamente grazie all'imprenditoria locale e alla capacità di rinnovarsi dei nostri imprenditori stiamo avendo grossi risultati con questa nuova linea di barche che rappresentano comunque un investimento nella qualità nel credere nelle prospettive e nelle risorse del territorio Il raggio d'azione del porto di Fano sembrava limitato a una sola area di varo invece grazie agli ingegneri che abbiamo preso e ritirato fuori da persone pensionate gente che era qua da tanti anni abbiamo ritrovato i calcoli delle banchine abbiamo sviluppato la possibilità di fare questi vari molto grandi qui che sembravano indirizzati solamente ad Ancona per cui riusciamo qui a livello dell'internafanese a risolvere dei problemi che ci porteranno lavoro Sono iniziati ieri i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali di Fano previsti fino al prossimo 10 luglio ma alcuni cittadini dopo aver letto l'elenco delle vie interessate hanno commentato il comunicato che abbiamo pubblicato sul nostro sito che è la notizia.it e molti segnalano la pericolosità della strada di mezzo di Rosciano e parte di via 4 novembre Leo ad esempio scrive che la strada comunale di mezzo è pericolosa sia per i ciclisti che per i motociclisti senza parlare delle macchine che si distruggono giorno dopo giorno ogni ripristino di buca che il comune o chi per lui esegue il lavoro a mio parere, commenta Leo non serve a niente in quanto il bitume viene messo senza la mano di attacco e soprattutto quello posato nella buca non viene rullato quindi rimane slegato e le piogge creano l'avvallamento e la nuova buca secondo me conclude sono solo soldi buttati gli interventi devono essere fatti a regola d'arte e non improvvisati Tony invece scrive che la strada del cimitero di Rosciano è un vero campo minato molto pericolosa nello stato in cui si trova sia per i ciclisti che automobilisti costretti a infiniti slalom per evitare quelle che non sono più buche dice ma crateri la situazione però non è migliore in alcune strade del Lido di Fano come ad esempio in via Fabio Filzi che come potete vedere da queste immagini è rovinata in molti punti considerato l'arrivo dell'estate e quindi anche una maggiore affluenza in zona di fanesi e turisti si spera che venga ripristinata il prima possibile e adesso parliamo di maltempo perché è previsto un peggioramento nelle Marche lo indica un avviso di condizioni meteo avverse diramato dalla protezione civile regionale con un avviso di criticità idrogeologica valido per tutta la giornata di domani la situazione dovrebbe migliorare invece giovedì previste piogge diffuse più abbondanti lungo la fascia costiera associate a forti rafiche di vento e fulmini criticità idrogeologica e idraulica moderata lungo la costa ed ora parliamo delle mense scolastiche perché un componente del comitato mensa sottolinea la presenza di cibi surgelati e fuori stagione sulle tavole degli asili fanesi noi non abbiamo dato subito senso voce a un primo episodio un secondo episodio ora si sono sommati e è bene che tutti sappiano che cosa sta succedendo contesta i cibi serviti nelle scuole dell'infanzia fanesi Sergio Ferri, componente del comitato mensa che denuncia la mancanza di prodotti di stagione e a chilometro zero ho la certezza che il prosciutto cotto contenga polifosfati lattosio, saccarosio, cose certamente non genuine per i bambini poi questo è un menù servito il giorno 21 maggio c'erano riso al pomodoro, polpette di legumi, insalata mista 7 bambini su 20 non hanno mangiato il primo 6 su 20 non hanno mangiato il secondo 4 su 20 non hanno mangiato il contorno il che significa che almeno una media di 13 bambini quel giorno non hanno mangiato poi si decantano tanto i benefici della frutta e dei prodotti bio della frutta di stagione, frutta e verdura di stagione e anche del chilometro zero allora sono quasi due settimane che ai bambini vengono servite pere e mele lasciamo stare su come sono conservate ma diciamo che sono state raccolte ottobre dell'anno scorso 2014 quindi quale stagione, che frutta di stagione poi adesso che si possono servire meloni, pesche, albicocche, susine, fragole di tutti questi frutti solamente le fragole le hanno avute un giorno e solamente due a testa per quel che riguarda la verdura a chilometro zero prosegue fagiolini e spinaci sono surgelati non ho mai sentito che dei contadini nostri a chilometro zero surgelino i loro prodotti gli adulti hanno assaggiato invece questi pasti? assolutamente sì, io stesso ho assaggiato questi pasti e devo dire che il giorno che sono stato c'era una specie di zuppa minestrone e ho mangiato benissimo quindi non è che voglio gettare fango su tutta l'istituzione dico solamente che ci sono delle cose da aggiustare e ogni qualvolta noi del comitato mensa facciamo presente queste cose che vanno aggiustate quelli dei servizi educativi dicono ah no, mi spiace, c'è l'appalto, non si può aggiustare niente so che l'assessore ai servizi educativi del comune di Fano è una persona che crede molto nel suo lavoro che è anche competente quindi lo pregherei vivamente di controllare l'appello è stato accolto dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarina che dà alcune rassicurazioni sull'argomento i prodotti di frutta che noi proponiamo nelle mense scolastiche sono biologici comprese le pere, comprese le mele raramente ricorriamo alla frutta convenzionale solo quando il volume della frutta a disposizione di stagione non è sufficiente per rispondere al fabbisogno delle nostre mense io lo ricordo noi ogni giorno, 5 giorni alla settimana dobbiamo produrre 2000 pasti e questi sono i numeri sui quali anche da un punto di vista organizzativo ci dobbiamo muovere quindi può capitare qualche volta ma è abbastanza raro che si debba ricorrere alla frutta convenzionale cerchiamo di alternare i cibi ha proseguito l'assessore proponendo anche ciliegie, fragole, meloni e quindi prodotti di stagione ha precisato inoltre che il fornitore dei prodotti ortofrutticoli che attualmente fornisce le mense è lo stesso degli ultimi anni che non è collegato con il nuovo servizio di rifezione gestito dalla Dusman colosso tedesco che si è aggiudicato il bando la cosa importante però è in questo senso il sollecito che arriva anche da qualche genitore è importante, ne faremo tesoro poter condividere, concordare insieme come solitamente facciamo del resto con i comitati mensa quindi con i genitori e con gli insegnanti quello che è il menu infatti il menu che di settimana in settimana proponiamo viene di volta in volta rimodulato in base anche alle esigenze e le richieste che vengono formulate anche dalle famiglie giustamente ulteriore elemento di verifica e di collaborazione con i genitori sarà la messa online di tutti i menu in maniera preventiva in modo da poter verificare durante la settimana quali saranno i cibi che verranno serviti negli asili frequentati dai figli e questo sarà un elemento non solo di trasparenza ma anche diciamo così di costruzione di una condivisione, di una collaborazione con i genitori e con le famiglie rispetto alla formulazione del menu e credo che questo possa essere una buona garanzia anche per i genitori che giustamente richiedono il massimo dell'attenzione per quelli che sono i prodotti che arrivano a tavola Si è spenta l'età di 95 anni Marilu Cordero di Montezemolo Borgoggelli Ottaviani nuora di Piercarlo Borgoggelli che durante la seconda guerra mondiale mise in salvo il patrimonio storico e culturale fanese tra cui il sipario del Teatro della Fortuna la signora Marilu che ebbe anche un ruolo attivo come socia all'interno dell'organizzazione Sor Optimis è deceduta ieri pomeriggio all'ospedale Santa Croce di Fano dove era ricoverata ormai da una decina di giorni i funerali si svolgeranno venerdì 19 giugno alle ore 17 nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano ed ora cambiamo argomento perché sono stati nominati consiglieri generali della fondazione Cassa di Risparmio di Fano per il quinquennio 2015-2020 allora vediamo di chi si tratta sono stati disegnati dall'assemblea dei soci del 25 aprile 2015 Franco Battistelli, Pierpaolo Fraticelli, Gabriele Frausini, Tonino Giardini, Luca Guerrieri Maria Francesca Mariani e Corrado Piccinetti il comune di Fano ha indicato invece Maurizio Tomassini e Anna Maria Genovali la Camera di Commercio di Pesero Urbino, Pier Giorgio Cariaggi la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, Giovanni Rondini Marco Ferri invece è stato indicato dall'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo Giovanni del Gaiso, designato dai comuni della Valle del Metauro quindi Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore, Saltara e Serrungarina mentre Giancarlo Loccarini è stato indicato dai comuni della Valle del Cesano e quindi Barchi, Mondolfo, Monteporzio, Orciano, Pergola, Piaggia e San Costanzo il prossimo 29 giugno poi il nuovo organo che vede la presenza di 9 nuovi consiglieri su 14 verrà inseghiato, verrà nominato inoltre il suo vicepresidente Si è concluso il ride aereo Italia-Inghilterra partito venerdì scorso dallo Scalo Fanese, i 14 piloti e copiloti del Fly Fano Club hanno fatto rientro in aeroporto oggi intorno alle ore 13 dopo una missione al Cosford Airport di Londra dove si sono svolte le celebrazioni ufficiali della Royal Air Force per il 75esimo anniversario della battaglia di Inghilterra Un nostro telespettatore ci ha segnalato invece le pessime condizioni in cui versano i giochi nei due parchi di Fenile di Fano fino a due anni fa, sottolinea, c'era un dondolo mentre fino a 2012 c'erano un'alta lena e i canestri da basket d'altra parte il telespettatore ringrazia comunque i volontari che si occupano del verde e che con grande sacrificio rendono piacevoli le giornate al parco Nasce quest'anno Art Hotel, un progetto che prevede la disponibilità di otto albergatori ad ospitale per tutta l'estate e i lavori di artisti residenti nel territorio Il servizio di Lino Balestra L'albergo è parte stessa di una vacanza è un luogo non luogo fatto di transizione, di passaggio di incontri, di viaggi e di scambi è in questo contenitore così complesso, fuggevole, quasi indescrivibile che arriva improvvisamente un elemento a fermare tutto questo a fermare il tempo, l'opera d'arte anche essa diventa ospite momentanea dell'albergo è arrivata ma poi dovrà ripartire obbliga il viaggiatore, fruitore, a fermarsi provocando uno scambio di emozioni l'arte può diventare uno dei migliori veicoli di marketing territoriale e turistico è esattamente questa l'ottica in cui si inserisce Art Hotel Sì, devo fare i complimenti alle confesacenti agli albergatori, agli artisti che hanno messo in campo un'iniziativa veramente molto bella perché fare entrare l'arte negli hotel hotel peraltro, otto hotel che sono distribuiti tutta la fascia costiera nostra oltre che un evento di carattere simbolico che aumenta la sensibilità nei confronti della bellezza dell'ospitalità, dell'accoglienza ci consente di raccontare anche agli operatori artistici e la cultura dell'accoglienza di Fano sublimata appunto dall'arte Un'iniziativa per la quale i turisti avranno la possibilità di conoscere i nomi più importanti e la migliore produzione artistica delle nostre terre in un percorso d'arte non relegato in locali museali ma visitabile in qualunque condizione o momento della giornata Abbiamo messo a disposizione del nostro turismo abbiamo messo a disposizione degli artisti giovani artisti locali ma che sono già conosciuti sia a livello nazionale che fuori dal territorio e perciò per la prima volta abbiamo messo a disposizione alcune strutture, esattamente otto strutture alberghiere che ospiteranno per tutta l'estate le opere di questi giovani artisti fanesi Un nuovo modo quindi per poter vivere un luogo così rarefatto, fuggevole come un albergo Saranno ospitate arti riguardanti pittura, scultura, fotografia installazione e illustrazione Buona arte a tutti quindi E anche quest'anno la Banca di Credito Cooperativo di Fano ha premiato l'impegno nello studio dei figli di soci e di dipendenti con le borse in memoria dei coniugi Mirko e Monica Buttaroni Diciannovesima edizione delle borse di studio della Banca di Credito Cooperativo di Fano che anche quest'anno ha voluto gratificare 149 ragazzi per il loro impegno e dedizione allo studio per un totale di 53.000 euro risorse che confermano l'investimento dell'istituto di credito a favore dei giovani e del loro futuro scolastico e professionale Il riconoscimento è andato a studenti diplomati di scuola secondaria di primo grado e secondo grado e diploma di laurea con votazioni meritevoli La parola chiave è senz'altro mutualità perché questi qua sono i figli dei soci e poi merito Merito perché non premiamo indistintamente ma premiamo quelli che hanno raggiunto buoni risultati in virtù sia delle capacità ma soprattutto anche dell'impegno perché scuola è anche impegno e insieme c'è voler sottolineare l'importanza della formazione Importante l'impegno di tutti quindi il contributo della banca è proprio questo mettere insieme tutte le professionalità lavorare insieme alla scuola preparare questi ragazzi al meglio e poi da un punto di vista economico sicuramente non è facile non ci sono scorciatoie per uscire da questo momento però grazie all'impegno di tutti abbiamo buone carte da giocare Durante la manifestazione alcuni ospiti hanno parlato ai ragazzi delle nuove modalità di lavoro in spazi condivisi come il co-working Significa che noi abbiamo delle postazioni ufficio professionali con tutta l'attrezzatura del caso quindi da stampante, fax, plotter e chi più ne ha più ne metta perché ricordiamoci che il lavoro anzitutto deve essere professionale ma condiviso perché comunque si condivide lo spazio con altre ragioni sociali completamente scollegate tra loro che però si collegano all'interno del co-working del tutto autonomamente possono nascere delle collaborazioni spontanee e vediamo che nascono e possono nascere dei nuovi progetti è grande successo di pubblico per imperfetti sconosciuti il cortometraggio realizzato dall'ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola per la regia di Luca Misuriello proiettato ieri sera al Cinema Politeama di Fano la serata si è aperta con i saluti del vescovo Armando Trasarti di padre Giorgio, vescovo della chiesa greco ortodossa e di Don Gesualdo Purziani presidente della fondazione Gabbiano il quale ha sottolineato l'importanza della serata e il valore del cinema anche come veicolo di formazione dal 17 al 21 giugno invece torna Passaggi Festival della Saggistica la terza edizione si svolgerà in tre diverse location del centro storico di Fano il Chiostro delle Benedettine la chiesa di San Domenico e la Mediateca Montanare Mimo l'evento prevede 28 presentazioni librarie in 5 giorni 18 case editrici coinvolte 4 premi, laboratori e inchieste che vedranno protagonisti, scrittori, giornalisti personalità della cultura e politici il programma dettagliato lo troverete nel sito passaggifestival.it da domani inoltre trasmetteremo in diretta su Fano TV alcuni appuntamenti del festival e con 14 concerti in ogni angolo della città il Comune di Fano aderisce per il secondo anno consecutivo alla Festa della Musica Europea Saranno circa 100 i protagonisti della Festa della Musica Europea una manifestazione internazionale che riempe oltre 200 città d'Europa di musica e di musicisti per il secondo anno consecutivo il Comune di Fano ha aderito all'evento che si svolgerà sabato 21 giugno celebrando così il sostizio d'estate a coordinare e organizzare l'iniziativa invece l'associazione culturale Fano Music Story che è nata nel marzo 2014 conta già 200 soci quest'anno ci sono arrivate una trentina di richieste di musicisti di tutta Italia ne ricordo una pianista classica di Milano che voleva un pianoforte bianco in piazza 20 settembre e purtroppo per mancanza di fondi economici e quindi la non possibilità di ospitare tutti questi musicisti che da tutta Italia vorrebbero proprio venire a Fano sulle 60 città italiane che aderiscono alla Festa della Musica questo ci sprona a lavorare a cercare contatti per fare in modo che l'anno prossimo magari questa cosa riusciamo a farla Durante la manifestazione sarà possibile partecipare anche al concorso Una foto per ogni musica organizzato con la collaborazione di Centrale Fotografia le 20 migliori immagini che evidenzieranno l'anima di ogni diverso stile musicale saranno pubblicate sul sito della Festa della Musica Europea nello spazio dedicato alla città di Fano Un modo per far conoscere i nostri luoghi intrattenere i turisti far sentire della buona musica è anche un modo per far conoscere i gruppi che hanno la possibilità esibendosi in modo gratuito ovviamente di farsi apprezzare e conoscere quindi un volano io mi auguro anche per il lavoro di molti giovani che sono talentuosi e avranno l'opportunità di una vetrina Gli eventi in programma si terranno in alcuni luoghi suggestivi nei più importanti locali di musica dal vivo dal Lido alla Sassonia in piazza 20 Settembre fino a Torrette e a Piagge gli appuntamenti pubblicati nel sito fanomusicstory.it si terranno in contemporanea dal centro storico alla zona Mare di Fano dove sul palco centrale si esiberà il gruppo Carta Carbone alle ore 21.30 in più faremo un tributo al compianto Frecantoni col quale io facevo il corresta un po' negli ultimi anni e tra l'altro per l'occasione verranno a trovarci a suonare con noi Alessandra Mostacci che era la sua ex compagna e pianista Elisa Minari la bassista dei Nomadi e non è escluso che forse ci venga a trovare anche Max Cottafavi l'ex chitarrista di appunto Ligabue che faceva parte della band inoltre abbiamo il nostro cantante fanese Armando Dolci che fa parte appunto del progetto della Freak Flag Band quindi vi aspettiamo tutti domenica sul palco del Lido E questa era l'ultima notizia il nostro telegiornale termina qui fra poco trasmetteremo uno speciale televisivo dedicato all'undicesimo campionato a squadre di Boccia alla Lunga che si è svolto a Fossombrone Buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV Arrivederci a Fossombrone Grazie a tutti Grazie a tutti